Dai, è bella, bella a tutti, siamo andati in questo nuovo video per parlare della partita che sono riuscita a seguire stasera tra Ascoli e Benevento dei playoff, del primo turno di playoff di Serie B e poi domani ci sarà la partita tra Perugia e, fatemi controllare, Perugia e Brescia e poi, appunto, adesso ha vinto il Benevento, quindi il Benevento andrà a sfidare il Pisa, il 17 alle 20 e 30 cioè, Pisa verrà dal Benevento appunto in casa, al Vigorito e poi si andrà appunto allo stelto del Pisa il 21 alle 18 mentre invece chi vince tra Brescia e Perugia andrà appunto contro il Monza e poi, appunto, ci sarà la finale e sappiamo che, appunto, i semifinali e i finali saranno in partita di andata e di ritorno e, considerando tutto, possiamo dire che alla fine, appunto, seguendo la partita, non tutta perché poi un po', appunto, sono andato a mangiare, quindi ho perso praticamente fino al 75, sino praticamente ho perso la partita dall'inizio del secondo tempo e invece il primo tempo l'ho visto tutto e poi dopo ho visto tutto quello che è accaduto e, comunque, sì, per completare quella, la cosa, appunto, della, delle partite, insomma del, 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 del playoff della Serie B praticamente il Pisa e il Monza contro Brescia, Perugia e Benevento sono, appunto, avvantaggiate perché sono arrivate sopra quindi, la cosa è questa che praticamente oggi, come, come sarebbe andata anche domani prende quella che sta messa su meglio in classifica che in questo caso è il Brescia se dovessero andare ai tempi supplementari ma i tempi supplementari fanno ancora parità passerebbe il Brescia per il fatto che è sopra in classifica il Pisa e il Monza sono arrivati ancora sopra in classifica mi sa che il Monza è arrivato terzo, se non sbaglio e vediamo un attimo la classifica ah no, il Pisa alla fine è arrivato terzo vabbè, ma per, per, penso per scontri retti perché avevano fatti i stessi punti infatti, infatti Benevento, tipo, per quattro punti non si è trovato terzo anche lui e quindi col fatto che loro sono arrivati sopra hanno saltato un turno di, 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 di playoff e, però, appunto, la cosa che volevo dire è che se, allora, se dovessero fare i pareggi appunto, cioè, tra andate e ritorno se dovessero pareggiare il turno oppure se dovessero fare, tipo, 0-0, 1-1, 2-2 insomma, in una delle due partite quindi fare un doppio pareggio praticamente passerebbe il Pisa e passerebbe il Monza al contempo cioè, dall'altro lato, se accade la stessa cosa perché sono quelle che sono arrivate appunto sopra in classifica e poi, e poi, appunto, non mi ricordo quando ma... devo ricercarlo comunque, dopo, dopo qualche giorno ci sarà, appunto, la finale che sarà sempre andato a ritorno e, appunto, quella là poi, chi vince, passa lì, 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 non so se fanno i supplementari oppure passa che, chi era pensato meglio in classifica comunque la cosa che posso dire è che sono contento per il benevento poi stavo stavo in... cioè, conosco delle persone conosciuto un... tramite Telegram ho conosciuto un ragazzo, praticamente, che è di Ascoli e su un gruppo di Telegram vabbè, quindi, praticamente appunto, appunto, lui era pure andato allo stadio e mi è dispiaciuto un po' per lui perché, alla fine, ci credeva di più e anche a me sarebbe piaciuto, insomma se il benevento avesse perso, insomma di vedere proprio l'Ascoli andare in Serie A perché poi, da quello che ho capito c'era andata non mi ricordo, nel 2007 o nel 2004 aveva una di queste due volte perché, praticamente, avevano fatto dei casini e quindi avevano dovuto retrocedere cioè avevano dovuto togliere, appunto, dalla possibilità di andare in Serie A sia il Genoa che il Torino e quindi ci sono stati dei casini per cui proprio per quello era andata direttamente l'Ascoli in Serie A poi è stato qualche anno e poi è subito sceso per poi non... non tornare per poi non tornare mai più fino adesso che è tornato ai play-offs purtroppo il benevento ha avuto molta fortuna perché comunque l'Ascoli ha meritato di passare in vantaggio e è una cosa sicuramente da dire perché non si può dire che non è così perché ripeto sicuramente l'Ascoli ha giocato molto meglio ha giocato ha giocato bene scusate ha giocato molto bene l'Ascoli e veramente bisogna bisogna dirlo e la Padula la Padula poi che è tornato che ho seguito che ha fatto dei casini in realtà di questa cosa non mi ero scusate di questa cosa non mi ero per niente informato quindi non sapevo appunto di tutto quello che era accaduto e lo sto vedendo qui su su internet appunto che stanno che stanno che stanno mettendo appunto il gol di la Padula in non intendo il gol di la Padula a quelli là del 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 Perù perché la Padula praticamente si è presa la nazionalità del Perù e niente comunque cosa cosa ti posso dire e niente vedremo insomma come andrà come andrà a finire oggi Paliar è stato mostruoso e un bel bel portiere e chissà secondo me le altre squadre sono più attrezzate però il Benevento comunque potrebbe farcela con la Padula e appoggia ha perso pure Letizia che era un bel giocatore per stiramento chi lo sa vedremo un po' sarà difficile però mai delle mari diciamo che eh oggi poi 3000 colpi alla testa con un botto di sangue che è uscito mamma mia c'è robe assurde che sono accadute però anche questo è il calcio e niente questo è tutto quello che si può dire insomma di stasera è un clima veramente fantastico con i tifosi dell'Ascoli però purtroppo il Benevento ha giocato anche male però ha sfruttato le poche occasioni che ha avuto e l'Ascoli non riuscita a sfruttarle quindi purtroppo se ne si rifaranno un altro anno di B secondo me per il Benevento è molto difficile passare non mi voglio sbilanciare però dovrà dovrà sicuramente cambiare rotta perché secondo me così colpita non passa però staremo a vedere comunque quindi che altro si può dire che alla fine alla fine pure la difesa alla fine non mi è piaciuta tanto perché spesso c'erano dei giocatori che non venivano marcati bene dell'Ascoli che venivano lasciati da soli Bellusci pure hanno giocato bene Dionisi i giocatori qua insomma sono stati importanti per per l'Ascoli purtroppo se ti tanti volte non segni meriti di perdere e così è andato niente fate sapere cosa non so nei commentatori scriveteci e vi vediamo un prossimo video bello